Eccoci qui, un saluto ben ritrovati come state, un abbraccio, una buona serata a tutti, buone feste, mi raccomando, facciamo i bravi tutti, cerchiamo di andare d'accordo. Mi raccomando, lasciate un bel like, tanti like, commentate numerosi, iscrivetevi da questa parte, vi ricordo anche di attivare la campanella. Se riusciamo, integriamo in questo video il video di questa mattina in cui vi ho detto degli sviluppi per quanto riguarda la possibile svolta araba, ci sono ulteriori elementi. Volevo partire però da una frase che mi ha molto colpito, che ha riportato su Twitter anche l'amico Pietro Balzano Prota, grande fan di Zirgze da tempo e quindi sarà con noi in un video per raccontarci meglio anche il giocatore. Lui cita Andoie che parla di Tiago Motta e del suo gioco. Perché non è facile apprendere il gioco di Tiago Motta? Ogni giocatore deve fare tutto, i certi movimenti in base a cosa fa il compagno nell'immediata precedenza, quindi tutto letteralmente codificato. Tu sei Ala e non sei solo Ala, sei tante cose dentro la stessa partita. Sì, è un gioco di posizioni e non di ruoli, uno svolgimento in cui posso mettere dentro anche la mia qualità. Motta lo dice a me e a tutti, non in scatola nessuno. Quindi è tutto codificato ma anche poi terribilmente libero. Per il futuro direi di buttarci più di un occhio su questo allenatore davvero molto bravo che sta compiendo un'impresa a oggi incredibile con il Bologna che è quarto e oggi sarebbe in Champions League. Bravo anche Sartori, bravissimo, che magari preferisce rimanere un po' più nascosto, non ha mai riflettori, però ha fatto un lavoro straordinario con il Bologna, oltre ad aver individuato anche Tiago Motta. Allora, abbiamo di fatto l'ufficialità poi del fatto che Benazzer parteciperà alla Coppa d'Africa con la sua Algeria. Lo ha detto lui insomma in uno dei video, sapete che adesso anche lui si è messo a raccontare i problemi eccetera eccetera. E ha detto insomma, credo che non ci saranno problemi sostanzialmente, quindi ufficializza la volontà, toglie ogni dubbio e questo ci porta a che cosa? A perdere lui, abbiamo perso Pobega per almeno un paio di mesi, se non di più se dovrà essere operato. Dovremmo perdere Cronici se va via, dico se perché magari questo potrebbe cambiare un po' la situazione. rimaniamo un po' con la coperta corta, detto che potrebbe andare anche ad lì, quindi attenzione, perché ci potrebbe essere una clamorosa emergenza non soltanto in difesa nel ruolo dei centrali, ma anche a centro campo perché rimarresti con Reinders, Loftus-Cic, che tra l'altro convive con la pubalgia, Musa, che credo ancora per un paio di settimane sta fuori alla faccia dell'affaticamento, comunque una decina di giorni, e poi Pobega ha rotto, Ben Nasser Coppa d'Africa, di Cronici abbiamo detto e forse può andare anche ad lì, quindi rischiamo di essere in una situazione davvero di un'emergenza pazzesca. Vediamo un po', però, ieri Furlani, la domanda se adesso la priorità diventa al centro campo, ha detto di no, o ti tieni Cronici, oppure fai partire Cronici e lo sostituisci, delle due l'una come direbbe qualcuno, quindi massima attenzione, però ripeto, Ben Nasser ha ufficializzato di fatto che farà la Coppa d'Africa, per me va bene, nel senso che poi può fare un lavoro, torna, se non ha intoppi, facevo tutti gli scongiuri del caso non inquadrati, torna, è bello in forma, in condizione per il rush finale con il Milan, Europa League, piazzamento dei primi quattro posti e Coppa Italia. Poi, ragazzi, c'è un ritorno di fiamma per la punta, attenzione, e a gennaio il Milan sarà molto protagonista, sicuramente con uno, se non due difensori, però c'è anche, almeno c'era prima del discorso Pobega, la volontà di prendere anche un attaccante, vediamo cosa succede al centro campo. E poi c'è anche il discorso Juan Miranda aperto come terzino sinistro che potrebbe essere anticipato. C'è una situazione particolare sulla quale andiamo adesso, però non possiamo oggi non parlare di Charles de Quetelare. E non mi dite, non è più nostro, no, è nostro de Quetelare, quindi abbiamo più che un interesse a parlarne, ad osservarlo. Ieri de Quetelare ha fatto un'altra buona partita, ne ha fatte tante non buone, lo dico, però insomma ha portato a casa un gol e un assist. La stagione di De Quetelare vede un campionato 15 presenze, 56% da titolare, 2 gol e 4 assist, ha partecipato al 21% dei gol dell'Atalanta, quindi un gol su 5 c'è il suo zampino. Ricordando che poi ha fatto 2 gol in 4 partite di Europa League, tradotto una rete ogni 271 minuti, quindi una rete ogni 3 partite, molto bene. La Milan ha fatto un gol in tutta la stagione. Il bilancio, 19 partite, 4 gol e 4 assist. Cioè la prospettiva è che lui possa arrivare a doppia cifra di gol e doppia cifra di assist a campionato concluso. Sarebbe tanta roba, tanta, tanta, tanta roba, come si dice, come dicono quelli giovani. Il paragone con il Milan è impietoso. Poi sui social c'è chi dice, ha questa terminologia. Under Pioli, cioè con Pioli, 40 partite, 0 gol e 1 assist. Under Gasp ha oggi 19 partite, 4 gol e 4 assist. Un cambio clamoroso. Davvero clamoroso, eh. Anche se ha avuto i momenti negativi pure da quelle parti. Però lui dice, Casperini ha elementi tattici molto chiari e questo ci dà fiducia. Siamo sempre nelle posizioni giuste e per questo creiamo tanto. Sul riscatto a fine stagione sto bene qui, all'Atalanta. Non puoi dire, altrimenti sarei felice di crescere qui. Ma siamo a dicembre e non penso alla prossima stagione. Poi vi devo però far ascoltare un contributo in cui lui, insomma, non le manda, cioè, Prova a non ne mandarla a dire, ma parla molto chiaro, eh. Sentite che cosa ha detto. Sì, è vero. E qui l'Atalanta lo faccio, posso fare molto bene. Sostanzialmente lui dice, insomma, qui gioco dove devo giocare. Faccio un lavoro diverso che più nelle mie corde rispetto a quello che mi chiedeva al Milan. Probabilmente. È stato un equivoco tattico, poca comprensione. È vero che è stato provato un paio di volte anche più vicino all'area, più nell'area. Però era entrato, secondo me, ormai in un loop negativo. C'è un cambio clamoroso di marcia. Io dico che da un po' dispiace, per un po' dispiace. Dall'altra parte, secondo me, stando così le cose può essere un'operazione we-wee, nel senso che se torna rigenerato, torna rigenerato e può essere consegnato con più fiducia a un nuovo allenatore che capisce meglio che deve fare quello che sta facendo oggi l'Atalanta, quindi giocare molto più vicino all'area. Se invece l'Atalanta lo riscatta, ci si può mangiare le mani se un domani lui continuerà a diventare un giocatore importante, ma dall'altra parte il Milan incasserà 25 milioni di euro. 22 più 3 di bonus se fa l'Europa all'Atalanta. Per un giocatore che sembrava un problema potrebbe diventare comunque un beneficio. Sono soldi che ti aiutano poi ad avere ancora più risorse per quello che devi fare. Cioè terzino destro, difensore, centrocampo qualcosa va fatto e attaccante. Quindi potersi avere 25 milioni di euro in più per la punta. Non è male. Magari anche secondo anno il Milan l'avrebbe fatto bene, non lo so. Ha avuto anche periodi di pausa, però 4 gol e 4 assist. Il cambio è incredibile rispetto a quello che purtroppo non era riuscito a fare al Milan. Un assist col Bologna e basta. E un giocatore va misurato quando gioca da metacampo in su anche per il numero di gol e di assist. Sta facendo molto bene l'Atalanta. ribadisco, sono contento perché o torna rigenerato o tornano qui 25 milioni da spendere per la punta. Voi preferireste avere 25 milioni o un decatelare rigenerato dato in mano a un nuovo allenatore? Che ne pensate? Leggerò i vostri commenti. A proposito di punta, il Milan vuole fare una punta a gennaio. Mi è dispiaciuto che l'altro giorno non sia entrato Jovic. Una punta, escludo David che costa troppo, escludo anche altri profili, nel senso che devi fare un tentativo intelligente. E attenzione, perché torna di moda un profilo del quale avevamo già parlato in estate. Milan aveva fatto un tentativo ma non si era realizzato. Il nome in questione è Youssef N. Nessiri. 26 anni, marocchino quindi anche lui va a fare la Coppa d'Africa. 1,92. Giocatore che per caratteristiche può essere adatto. Gioca nel Siviglia a scadenza 2025. Quindi non è troppo in là. profilo che quest'anno ha fatto 5 gol in Liga, 2 in Champions League con un assist, 1 in Coppa del Re, 1 in Supercoppa. Lo scorso anno 8 gol in Liga, 4 in Europa League e 2 in Champions League. giocatore che ha 17 reti in 61 partite con il Siviglia e potrebbe essere l'arrivo di gennaio. Secondo colleghi specializzati in calciomercato in Spagna, il Milano vorrebbe in prestito oneroso sul 3, 4, 5 milioni di euro da pagare subito, diritto di riscatto sui 20-25. Per me può essere una buona idea, lo valuti, se fa bene lo prendi, altrimenti no. Però, una cosa la dico con fermezza, mentre mi sta andando via la voce, non deve essere l'acquisto come attaccante di riferimento. Cioè, un buonissimo giocatore, ma io pretendo qualcosa di più per l'estate. quindi può essere magari il giocatore che se la gioca con Jovic per essere il secondo barra terzo con Giroud. Ha 26 anni, ha esperienza, però non è un gole ad oro. Ha fatto un anno molto bene, 20-21 con 18 reti in Liga. Gli altri anni non è mai andato in doppia cifra nel campionato nazionale. Quindi questo in qualche modo ci dice che può essere un attaccante da Minan sì, ma come cambio, non come prima scelta. Giusto? Per quanto riguarda invece il discorso arabo, ecco, la novità è che oltre a Invescorp il gruppo interessato sarebbe Aramco, che ha un patrimonio nel 2020 stimato in oltre 510 miliardi di dollari, una capitalizzazione azionale di 1,9 bilioni di dollari, è la compagnia nazionale saudita di idrocarburi che ha partecipazione appunto statale, in questo caso sarebbe PIF sostanzialmente. aggiornamento che arriva oggi dal mondo arabo rispetto di questa mattina, quindi ci sono triangolazioni che vanno in una direzione. Faremo però un ulteriore approfondimento magari domani mattina perché ci sono ulteriori elementi, nel frattempo scatenatevi con i commenti, lasciate un bel like, scrivete di numerosi da questa parte e e commentate. La voce sta andando via, la voce non c'è più questa volta, però non è colpa di Giroud. Un abbraccio a tutti e ancora buone feste, vi rimando al video precedente. Ciao!